Buongiorno Friuli e buon lunedì 27 maggio, noi siamo pronti come ogni giorno alle 7 per la nostra rassegna stampa, i nostri giornali sono già nel nostro touch screen, tra poco andremo a sfogliarli assieme, in primo piano ci sono i risultati delle elezioni europee, spazio però poi anche alla cronaca sui quotidiani locali, insomma tra poco andremo a leggere assieme le notizie principali di oggi, prima però come sempre apriamo anche una finestra sul nostro Friuli che si sta risvegliando in questa mattinata caratterizzata dalla pioggia, c'è il cielo nuvoloso su buona parte del Friuli e Venezia Giulia. Andiamo a dare un'occhiata alle temperature che si registrano in questo momento, l'immagine che vediamo ci arriva da Cividale del Friuli dove in questo momento il termometro segna 14 gradi e 8 decimi, e poi è ancora sulla costa Trieste 15 gradi e 6, 16 gradi e 4 decimi a Grado, 16 gradi e 9 a Lignano, a Udine il termometro segna 16 gradi, a Gorizia 15 gradi e 4, a Pordenone 15 gradi e 6, salendo in montagna invece vediamo a Tarvisio 9 gradi e 6 decimi, 6 gradi e 1 decimo sul monte Lussari e anche sul monte Zoncolan. Questa è la situazione, queste le temperature in questo momento, adesso andiamo a vedere assieme a Eleonora Nocent come proseguirà questa giornata per quanto riguarda il tempo. Il meteo è offerto da... La Proloco Turrida presenta la 38esima edizione della Sagre Dai Cais. Scopri gli appuntamenti di giugno in programma nel Parco sul Tagliamento sulla pagina Facebook ufficiale Sagre Dai Cais. E' ritrovati con le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di lunedì 27 maggio. Cielo in prevalenza coperto con piogge in genere moderate più continue sulla costa, clima fresco per il periodo e temperature diurne in netto calo. Le temperature. Sulla costa 14-16 gradi di minima, 16-19 gradi di massima. In pianura 14-16 gradi di minima, 16-19 gradi di massima. A 1000 metri 12 gradi e a 2000 metri 6 gradi. Una rivederci a tutti e alle previsioni meteo di domani. Il meteo è stato offerto da... La Proloco Turrida presenta la 38esima edizione della Sagre Dai Cais. Scopri gli appuntamenti di giugno in programma nel Parco sul Tagliamento sulla pagina Facebook ufficiale Sagre Dai Cais. E siamo pronti adesso per andare a vedere anche com'è la situazione viabilità sulle principali autostrade della nostra regione. Ecco la pagina infotraffico di Autovie Venete. Al momento non ci segnala situazioni di particolare criticità. Vediamo le solite icone che ci ricordano i tanti cantieri in corso sull'A4. Ma non ci sono segnalazioni di incidenti, ralentamenti o code. E allora iniziamo a sfogliare i quotidiani di oggi. Come dicevamo in primo piano il risultato delle elezioni europee nella notte, lo scrutinio delle schede. Vediamo allora cosa è emerso dallo scrutinio. Ovviamente i dati non sono ancora definitivi. Il Corriere della Sera in apertura titola così. Oggi la Lega vola, il PD supera il Movimento 5 Stelle. Voto europeo, crollo dei 5 Stelle. Salvini esulta e detta la nuova agenda di governo. Si vota per l'Europa, scrive il Corriere, ma l'Italia aspettava il risultato per vedere i nuovi rapporti di forza tra i partiti. La Lega è il primo partito e arriva al 32%. Praticamente quasi un italiano su tre ha votato per il Carroccio. Inoltre il partito di Salvini ha quasi raddoppiato i voti rispetto alle politiche di un anno fa. Risultato storico, siamo il primo partito di un grande paese. Il PD è in vantaggio rispetto ai 5 Stelle. Il Movimento ha perso consensi rispetto alle scorse politiche e sarebbe intorno al 19%. Forza Italia si piazza sotto al 10%. Fratelli d'Italia oltre il 5%, mentre la lista più Europa di Emma Bonino è in bilico. Per avere seggi nel Parlamento europeo bisogna raggiungere almeno il 4% dei voti. Andiamo a vedere adesso con l'aiuto della regia anche gli ultimi dati aggiornati proprio per quanto riguarda il voto in Italia. Eccoli qui, vediamo che al primo posto c'è la Lega con il 34,34% dei voti. Questi dati sono stati aggiornati a pochi minuti fa, alle 6.57. E poi vediamo il PD al 22,78, il Movimento 5 Stelle al 16,99%, Forza Italia all'8,75%, Fratelli d'Italia al 6,45% e poi tutte le altre liste sotto la soglia del 4%. Questi gli ultimi dati aggiornati. Andando a vedere un po' una possibile composizione del Parlamento europeo, sempre con l'aiuto della grafica, andiamo a vedere i partiti, i gruppi che hanno ottenuto i voti maggiori. C'è il Partito Popolare europeo con 179 seggi, poi ci sono i socialisti democratici con 150 e poi c'è l'Alde con 107 voti. Questi i partiti che hanno, i gruppi, pardon, che hanno ricevuto i gruppi maggiori. Adesso si tratterà di capire come potrebbe essere formata la maggioranza del Parlamento europeo. Se ne discuterà ovviamente nelle prossime ore, quando ci saranno anche tutti i dati definitivi. In prima pagina il Corriere della Sera mette anche le proiezioni per quanto riguarda il voto negli altri paesi europei. Vediamo in Francia una vittoria, al momento ovviamente sono dati parziali dei lepenisti, con il 23,3 a marcia e al 22,1. In Germania la CDU, CSU è al 98,7% e poi i verdi che in Germania stanno ottenendo il 27% dei voti. In Austria vincono i popolari con il 34,9, in Spagna i socialisti 32,8. Questi i dati principali. Vediamo per quanto riguarda il commento ovviamente sul voto complessivo in Europa, vittoria di Le Pen, ma i sovranisti restano minoranza. Il Partito Popolare Europeo e i socialisti cercano, alleati, apertura di verdi e alde. Quindi si tratterà appunto di capire come sarà composta la maggioranza del Parlamento Europeo. Gli euroscettici crescono ma non stravincono. Le famiglie politiche tradizionali, popolari e socialisti perdono consensi, ma ne conquistano di nuovi i liberali e soprattutto i verdi che sorprendono sia in Germania sia in Francia, dove Marine Le Pen supera Macron. Affluenza alle urne alta in tutti i paesi dell'Europa. I popolari dunque sono il primo partito e ora, così come i socialisti, cercano alleanze per costruire una maggioranza con i verdi e alde. Queste le notizie principali sulla prima pagina del Corriere della Sera. Ancora andiamo anche su Repubblica adesso, che titola così oggi in apertura, Ombre Nere, stravince Salvini ma i sovranisti non sfondano. Affluenza Record, vota uno su due. Sale l'onda verde, Lega partito oltre il 30%, il PD sorpassa i 5 Stelle. E poi tra le cose sottolineate da Repubblica c'è appunto il fatto che in Francia Le Pen supera Macron, giù socialisti e popolari, tiene Merkel, l'ulione salvata dal voto dei giovani. In Italia crolla il movimento di Di Maio, vola il centrodestra, esecutivo in bilico. Conte dice io non mi farò massacrare. E poi la sinistra segnali di ripresa per i Dem. Zingaretti dice ho rischiato tutto. In Piemonte Chiamparino non ce la fa. Si è votato anche per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte ieri. E poi anche qui vediamo appunto tutti i dati che abbiamo già visto sulla prima di Repubblica, poi aggiornati anche sul web. Da Repubblica andiamo adesso sulla prima pagina della stampa che titola così oggi Ribaltone, Lega, Boom, Crollo, 5 Stelle. Salvini oltre il 30% grazie Italia, l'esecutivo non cade. Sorpresa del Partito Democratico è diventato il secondo partito. Il Piemonte a Cirio scrive. La stampa ancora, andiamo adesso anche sulla prima pagina del giornale che titola Governo, addio, terremoto, elezioni, grillini a picco sorpassati dal Partito Democratico, Di Maio ora rischia, Lega al 33%, Forza Italia tiene, Fratelli d'Italia ok, il centro-destra c'è, in Europa Macron crolla ma i sovranisti non sfondano. e poi anche qui vediamo tutti i dati. Chiudiamo anche la prima pagina del giornale, andiamo adesso sulla prima di Libero e vediamo il titolo Salvini sfonda, Di Maio affonda, Lega primo partito d'Italia, risultato epocale del carroccio, gli elettori sono stati chiari, Mattarella che fa, scrive il giornale, i grillini tornano indietro di 5 anni e perfino il PD va meglio, bene la Meloni, Le Pen, Orban, Farage, i sovranisti avanzano in Europa, male Merkel e Macron. e poi vediamo tutta la prima pagina di Libero, chiudiamo anche questo quotidiano e andiamo a vedere la prima pagina del manifesto che titola oggi così, una foto di Salvini, Amen, l'Europa non si astiene, sale l'affluenza e la frammentazione del Parlamento che perde la sua vecchia maggioranza, P.P.E. socialdemocratici, volano i verdi e crescono i liberali, il PSOE frena la discesa dei socialisti, l'estrema destra vince in Italia, Francia e Ungheria, incoronato Salvini, guadagna Fratelli d'Italia, Forza Italia sotto il 10, crollano i 5 stelle mentre il PD risale la china, male la sinistra. Andiamo anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, il titolo di apertura di oggi, comanda Salvini, crollo 5 stelle col sorpasso PD, la Lega ribalta gli equilibri giallo-verdi e sfonda il 30%, governo Conte sempre sopra il 50%, Piemonte alle destre. E questo è il Fatto Quotidiano di oggi. Andiamo anche sulla prima delle sole 24 ore e vediamo che anche qui in apertura c'è la politica, Boom, Lega, PD supera il Movimento 5 Stelle, ecco il titolo, Carroccio avanti nelle proiezioni, crolla il Movimento 5 Stelle sorpassato dal PD e Salvini che dice non regoliamo Conte, il governo va avanti. In Europa affluenza più alta ma non in Italia, in Francia le pende avanti a Macron, i sovranisti non sfondano e poi c'è il trionfo verde in Germania. Sulla prima pagina del sole 24 ore anche un'altra notizia che ci arriva dal mondo dell'economia, una possibile maxi-alleanza fra i gruppi FCA e Renault, i gruppi FCA e Renault trattano una maxi-alleanza fronte aperto con Nissan, caccia a un'intesa per recuperare forza. E questa è l'altra notizia del giorno. Chiudiamo adesso il sole 24 ore e andiamo anche sulle pagine della Gazzetta dello Sport per dare un'occhiata anche a un quotidiano sportivo nazionale, anche per lo sport. Quella di ieri è stata una giornata di verdetti definitivi, soprattutto per quanto riguarda la Champions e la salvezza. Ecco il titolo di apertura della Gazzetta, Neuro Inter va in Champions dopo una gara folle contro l'Empoli, retrocessa, Milan fuori e l'Atalanta fa la storia. E poi vediamo le due squadre nerazzurre protagoniste del titolo di apertura, San Siro trema, Keitana, Ingolanne, Superandanovic, voto 9, decisivi, un grande Empoli perde e va in B. Disastro Icardi, esce tra i fischi e spalletti che provoca Zang. E poi vediamo la festa dei Bergamaschi, rimontano il Sassuolo, sono terzi e per la prima volta giocheranno la Coppa dei Big. Gattuso vince ma è quinto Euroleague. Oggi Leonardo lascia, torna al PSG, dice la Gazzetta. E vediamo anche qui la classifica appunto con i verdetti definitivi della Serie A. Juve un finale amaro, ha perso ieri la Juve in casa della Samp per 2-0. Toro chiusura in bellezza, quindi vediamo lo scudetto la Juve, come sappiamo già, Napoli, Atalanta e Inter in Champions, Milan, Roma e Lazio in Europa League, retrocesse Empoli, Frosinone e Chievo. Poi torneremo sullo sport come sempre nella seconda parte della nostra rassegna stampa di questo lunedì. Adesso chiudiamo la nostra cartella con tutti i quotidiani nazionali e andiamo ad aprire la cartella con i quotidiani locali, Messaggero Veneto e Gazzettino. Andiamo a vedere il Messaggero Veneto, come dicevamo prima c'è la politica ma anche la cronaca in primo piano. Per quanto riguarda la politica vediamo Lega prima, testa a testa PD 5 Stelle e vediamo anche qui boom di votanti in Europa ma i sovranisti non sfondano, Salvini sfiora il 30%, comunali in Friuli subito eletti alcuni sindaci in quei comuni in cui c'era un unico candidato ed è stato raggiunto il quorum. Vediamo, tra poco andremo anche nelle pagine interne, andremo a vedere qualche particolare in più appunto anche sulle amministrative ma adesso diamo un'occhiata agli altri titoli in prima pagina perché per quanto riguarda la cronaca dicevamo di un grave incidente stradale nella mattinata di ieri a Castions di strada auto contro un palo muore una ragazza di 22 anni. Ecco il titolo in prima pagina e poi abbiamo tutto l'articolo nelle pagine interne. Ecco qua, l'auto si schianta contro un segnale, ragazza di 22 anni muore sul colpo. Gaia ha vecchiato, viaggiava su una Clio con quattro amici. L'incidente è avvenuto sulla statale 353 a Bivio, Paradiso. Degli altri feriti c'è anche un altro ragazzo che è in gravi condizioni come ci leggiamo appunto sulle pagine del messaggero Veneto. E poi vediamo anche altri articoli, una ragazza, una persona solare, troppe vite spezzate, bisogna riflettere, dice il sindaco di Castions di strada, Roberto Gorza. E poi quell'SMS ai genitori, sto rientrando il padre, non vedendola arrivare, era andato a cercarla in bici. Ancora torniamo sulla prima pagina del messaggero Veneto, andiamo a dare un'occhiata anche alle altre notizie. Andando di spalla, sempre per quanto riguarda la cronaca, vediamo a Udine, litigano e parte un pugno. Un giovane è gravissimo, l'assessore è fuggito. Un banale litigio per una mancata precedenza, scoppiato poco prima dell'1.30 della notte tra sabato e domenica, è sfociato nel sangue e un 19enne cinese da anni residente in città si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale. L'aggressore che ha colpito il giovane asiatico con un pugno è riuscito a scappare, questo è il titolo in prima pagina, e poi anche qui abbiamo l'articolo nelle pagine interne, sulla prima pagina del fascicolo dedicato a Udine e provincia. Ecco qua l'incidente avvenuto in zona Chiavris, violenta lite per una mancata precedenza. Un ragazzo cinese di 19 anni picchiato al semaforo tra via Lettricesimo e via Piemonte. L'aggressore è scappato. E poi invece in apertura del fascicolo di Udine, striscione contro Salvini alla casa dello studente, rimosso dai vigili del fuoco. Un intervento nella serata di sabato. Ancora, tornando sulla prima pagina del Messaggero Veneto, vediamo il tema commercio in primo piano. Uno dopo l'altro chiudono gli storici negozi del centro di Udine. Ecco qua. E poi vediamo, tornando invece ai temi regionali, rallenta la corsa verso reddito e quota 100. C'è stato un sensibile ralentamento nei flussi delle domande, sia a livello nazionale che in regione, per il reddito di cittadinanza e anche per quota 100. A marzo le richieste si sono dimezzate rispetto a quelle presentate tra il 29 gennaio e il 28 febbraio. Nel taglio basso si parla del concerto di Vasco Rossi a Lignano-Sabbiadoro. Il popolo di Vasco sbarca a Lignano, prova generale, con 12.000 fan, un coro, una voce sola e 12.000 cuori che battono all'unisono. Il Tegil si accende ed è una botta di energia. Il comandante è sul trono. Andiamo a vedere alcune foto del concerto di ieri di Vasco Rossi, la data zero del tour Ecovasco, una botta di energia e 12.000 fan. Lo abbracciano. Concerto riservato ieri al Tegil. Il rocker di Zocca si è concesso al suo popolo e questa sera apre il tour. Chiudiamo questa pagina del Messaggero Veneto e andiamo adesso a vedere la prima pagina del Messaggero Veneto di Pordenone. Ecco qua la notizia di apertura. Lavoratori stagionali, quote insufficienti, SOS delle aziende agricole della provincia di Pordenone. Solo 100 posti per gli extracomunitari. E col diretti dice il fabbisogno e almeno il doppio. Preoccupazione per le imprese. E questa è l'apertura del Messaggero Veneto di Pordenone. Che adesso chiudiamo per andare sulle pagine del Gazzettino. Vediamo anche qui la prima pagina dell'edizione nazionale con la Lega che sfonda e il PD che sorpassa il Movimento 5 Stelle. Ma andiamo adesso subito sul dorso del Friuli. Che così vediamo assieme ai titoli di apertura. Ritorniamo a parlare di elezioni. Parliamo delle comunali. Ieri, come detto, si votava anche in 117 comuni del Friuli Venezia Giulia. In questo caso lo spoglio delle schede inizierà questo pomeriggio a partire dalle 14. Noi tra l'altro saremo in diretta proprio dalle 13.30 per seguire lo spoglio delle elezioni amministrative con tanti collegamenti dal territorium. Dicevamo quorum battuto dove si era presentato un solo candidato. A Reveo il primo cittadino ha festeggiato già nel pomeriggio. La provincia di Udine fa registrare l'affluenza più alta alle europee. Il dato finale ha sfiorato il 60%. E allora andiamo a leggere anche qua le prime righe dell'articolo. Prima ancora dell'inizio dello spoglio, oggi alle 14. 18 dei 117 comuni al voto hanno già un sindaco. Sono quelli che si sono presentati alle urne con un solo candidato e che hanno ottenuto il quorum. Primi cittadini eletti quindi per Raveo, Pulfero, Pontebba, Magnano in Riviera, Marano, Corno di Rosazzo, Attimis, Coseano, Moggio, Santa Maria la Longa, Colloredo, Malborghetto, Cavazzo, Chiopris Viscone, Verzenis, Ravascletto, Flaibano e Grimacco. E poi appunto ancora il dato sull'affluenza alle europee. Scorriamo velocemente le pagine interne e andiamo appunto a vedere anche qui l'articolo con tutti i dati. Quorum raggiunto in tutti i paesi con un solo candidato. Torniamo adesso sulla prima pagina del Gazzettino del Friuli e andiamo a vedere anche qui la notizia di cronaca. Schianto all'alba muore a 22 anni. E poi subito a centro pagina invece una foto sportiva sul Udinese Gran Finale. Rimonta promettente. L'Udinese chiude al dodicesimo posto il suo campionato. Libera dagli affanni della corsa a salvezza. La squadra di Tudor ha vinto in rimonta a Cagliari dopo essere passata in svantaggio nel primo tempo. E tra poco andremo a rivedere anche le immagini della gara di ieri a Cagliari. Sempre sulla prima pagina del Gazzettino lotta la mafia, legalità, la regione punta sulle scuole. E ancora di spalla al market arriva il defibrillatore nei supermercati di Cia Conad. Poi già 300 adesioni al progetto. Al via per il terzo anno il progetto Cividalese finanziato dalla regione. Nel 2018 ha già totalizzato oltre 300 partecipanti fra insegnanti, educatori e genitori. È il progetto dell'assessorato alle politiche giovanili del comune di Cividale, Friuli Together for Young People, partito nel mese di marzo. Abbiamo tenuto per il terzo anno, spiega l'assessore Giuseppe Ruolo, il finanziamento regionale su questo progetto, cui la Giunta tiene molto. E poi nel taglio basso le filiere di prossimità superstar nel Friuli Venezia Giulia sono stati i più dinamici del nord-est quanto ad export nel 2018, arrivando a generare un valore di 3,6 miliardi, e quanto emerge da un'indagine del monitor dei distretti industriali. E poi ancora rifiuti dal Brasile al Friuli a scuola di riciclo. IT2000, gestore dei rifiuti in 50 comuni della regione, ha ospitato una delegazione proveniente dal Brasile, una delegazione di tecnici che sta visitando l'eccellenza italiana nel campo della gestione dei rifiuti. Andiamo nel taglio alto adesso. Alignano due ospiti inediti allo zoo, il Bradipo e l'Armadillo. E poi energia, 50 ragazzi nella cabina di regia. Contaminazioni digitali, l'arte e la tecnologia si incontrano all'Arapacis di Medea, all'inaugurazione il 6 giugno. E questa era la prima pagina del Gazzettino del Friuli, con la quale chiudiamo questa prima parte della nostra rassegna stampa. Adesso, come detto, ci fermiamo per un attimo di pubblicità, poi saremo di nuovo assieme per concentrare la nostra attenzione sulle notizie sportive di oggi e poi anche per tutti gli altri aggiornamenti per quanto riguarda i risultati delle elezioni europee. Poi se avremo tempo ritorneremo anche sui risultati comunali, nei comuni in cui è già stato eletto il sindaco, perché con un solo candidato è quorum raggiunto. La linea alla regia, noi ci rivediamo tra qualche minuto. La linea alla regia, noi ci rivediamo tra qualche minuto.